Indovinelli in suo amico perché perché ci sono svegliati così abbiamo detto ma perché non troviamo a random a vedere se le persone riescono a indovinelli quindi abbiamo deciso di sorprendervi mentre siete lì a girare per il sito e vi buttiamo Anche perché voglio vedere se effettivamente sono solo io che non capisci indovinelli oppure ci sono anche altre persone però tu sicuramente hai un deficit di comprensione non so come si dica dove ti porta a analizzare l'indovinello e a non comprendere una cippa sempre ci saranno persone come me sicuramente ci sono persone come te Mi spiace per loro però esistono mo lo vedremo E mo lo vedo vai Ale e Pierre iscriviti al canale e attiva la campanella Allora vediamo un po' Comunque ci sono cose che non si possono vedere in questo sito eh Ciao Ciao Sei pronto? No Questo si è spaventato Andiamo un po' È dura è dura nel senso ciao Non dire questa parola in questo momento perché Sta girando di tutto Ah due Allora ti tocca Allora viaggia in tutto il mondo stando in un angolo Che cos'è? E ti dico che ti trovi nella miglior situazione dove puoi pensare Mi pare di vedere Sì penso tu Ok grande Quindi viaggia in tutto il mondo E stai in un angolo Guarda che c'è di capo La cartigianica? La cartigianica? No Beh effettivamente stai in un angolo Però non viaggia Però non viaggia Sui treni? Io nei treni non l'ho mai trovata La cartigianica c'è Ma Oddio Guarda questo qui non è tanto semplice effettivamente Però ti posso dare una mano Però me ne avevi fatto questo? Eh? Me ne avevi fatto? Trovo fatto Però No Non ci è mai arrivato Che cosa può essere quella cosa Che stando ferma in un angolo In un punto di un oggetto Viaggia in tutto il mondo Può essere di tutto Tipo? La valigia La valigia Ok Oppure Ma non è la valigia Oppure uno zaino Oppure Mh Ma sei? La fai tramite cosa? Viaggia tramite cosa? Oh madù Ti do un indizio Tipo La ruota No Tipo anche Luca Marco Franco Anche Franco No vabbè qua si confonde Che cazzo di Che cazzo di Franco viaggia Ma cosa c'entra? Franco E' Franco E' io so Francesco Piacere Di solito è Franco Sei in un angolo e viaggia in tutto il mondo Se c'è Franco Piccione Piccione Cioè non so quanti anni hai Però non si usa più Per una volta si usava Franco Nella letta Si usa Si Certo che lo usi Se tu vuoi scrivere una lettera Per spedirla in un altro paese Se ci ti mettere il Franco Quindi viaggia in tutto il mondo E sta in un angolo Bravo Questa è bello Ah grande Bomba Vai Allora Vediamo un po' Come ti chiami? Leonardo Vai Leonardo Bomba Allora Leo Più ne hai e meno temi Cos'è? Cazzo Ci sta come pensiero Però I capelli Però comunque ragionamenti senza Dice a me non servono mai venuti sti ragionamenti Vabbè però tu Cazzo Quando ne hai tanto Non temi Che cos'è? Ne ho tanto Quindi è singolare Sì Non hai paura Cos'è? Coraggio Eeeh Che cacchio T'ho aiutato T'ho aiutato T'ho aiutato Ciao Ciao Sei pronto? No ma così ti vuoi che fate il TikTok no? Sì Eh ti ho visti io Grande Come ti chiami? Non mi chiami alcuni Sì Gli altri invece no Ogni tanto ti sei rispecchiato in me Ah? Ogni tanto ti sei rispecchiato in me Sì Non è l'unico che ci rimane come un pero Ah? Non è l'unico che ci rimane come un pero Ale Perché? Perché adesso ti farò una domanda Un indovinello Sei pronto? Sì Gira per tutta la casa E poi si ferma in un angolo Cos'è? E ti dico che non è il nonno Cos'è? Cazzo No ehi Perché c'hai fantasmi in casa No Come ti chiami? Mattia 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 Ascolta Cos'è quella cosa? Una volta che la utilizzi No? Gira per tutta la casa E poi si ferma in un angolo È semplice Gira 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 Poi si ferma in un angolo È una trottola? No Ah tu ce le trottole a casa? È una cosa che c'hai in casa C'è la in casa? Che cosa? Cioè sicuro magari la utilizzi Magari la utilizza più qualcun altro Dipende Non lo so Ma è un qualche oggetto eh? È un oggetto È un oggetto Aspetta Sto a pensare un attimo Vai 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 Tutto il tempo che vuoi Pensa agli oggetti che c'hai in casa Che girano? Lo usa spesso la mamma Ah Vai Cosa per lavare a terra? Cioè? Tipo? Mocio È valido È valido Perché la risposta è la scopa Sarebbe la scopa Però il mocio È la stessa funzione Grande Mattia Ciao Poi passa come Come? Come il nominello Poi base Era solamente quello Vuoi un altro Vuoi un altro? Vuoi un segno Vai 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 Allora Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo Cos'è? Un aereo Un angolo Un angolo del cielo Divinto di blu Non c'è un suggeritore lì no? C'è qualcuno che ti sta suggerendo? No no non c'è Perché stavo guardando O guardavo un aiuto o guardavo un padre Pio per cercare aiuto No sto pensando Guardo che ne so muore Viaggia in tutto il mondo E sta in un angolo Ma è una cosa che si cammina? No Tipo una macchina? No Lo usi nelle lettere Cioè che tipo di lettere? È le lettere Quelle che imbusti Ah quando tipo gioco a tombola più o meno Che figura di merda No quello che invii per posta Devo inviare una lettera Dall'altra parte del mondo Ah e il corsino? No Ti voglio morì Ti voglio morì Oddio sei ammazzato? Ma che è ammazzato? Fracobolo Eccolo Che sto sempre nell'angolo del fracobolo nella busta Sì sì è bravito Cossiente interattivo più alto di quello di Ale Sì sicuramente Questo è molto Grande Mattia grazie mille Sì simpaticissimo Ciao Ciao Cambia cambia Bella Bella bro Lo so che sei pronto vero? Ah? Lo so che sei pronto Come ti chiami? Giacomo Lo so che sei pronto per un indovinello E io te lo faccio Lo beve Vai Non beve acqua Non beve vino Ma se non beve non cammina Cos'è? Questa è bella Tu neanche la sai no? Dovete pensarci insieme Gesù Gesù Ha dei poteri inimmaginabili Può anche camminare senza Senza mangiare né bere L'aria L'aria Non beve acqua Non beve vino Però se non beve Cioè tutte e due insieme Siete fantastici insieme Se non beve non cammina Devi aiutare Giacomo Mi devi aiutare Avanti Giacomino E chi è che non beve acqua? Chi è che non beve acqua? Ah anche gli animali bevono l'acqua Eh Le piante che non traspirano Traspirano Esatto le piante Ah dici che non bevono Ma traspirano Può essere quello? No no Non ho capito una cippa Niente Non è né vino Né acqua Né birra Ok Per camminare Ha bisogno Di un'altra sostanza Che vuol dire? Che te la vince il culo È un oggetto Perché se non può bere Né acqua né vino È qualcosa che beve lo stesso Ma La macchina Esatto Io ho pensato a tagliaerba Però è la stessa cosa Tagliaerba Stessa cosa? Tu pensi a tagliaerba vecchio? Tagliaerba ho pensato Tocca miseria Togliaerba È la macchina È la macchina Grandissima Ci sei arrivato anche senza aiuti Vabbè Hai visto Hai visto Io no No Non l'ho cambiato io Ciao 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 Ascolta Ti faccio una domanda Se mi sai rispondere Vinci un bacio d'Ale Quando passa lui Ti devi togliere il cappello Cos'è? Quando passa Questa cosa Ti devi togliere il cappello Tu hai appena guardato Ma che guardi? Ma non pensavo che Non pensavo di conoscere Inverno No Lateralmente ci potrebbe pure stare Perché dici Fa caldo Passa l'inverno Ti togli il cappello Ti togli il cappello Quando passa qualcosa Tu però non devi guardare Defici Come ti chiami? Ok ascolta Bezza Vediamo un po' Allora Non so se tu porti il cappello Sì Lo porti Perfè Pazzo Esatto Wow Grazie mille Ciao bezza Mi sono un po' da Batman Ti dico anche io un po' da Batman Guarda le labbra Sai da Batman E Batman E anche nella mascella Così È vero è vero Commenta, condividi E iscriviti al canale E la tua vita Non sarà più la stessa